La Farmacia San Michele si rinnova per la tua salute. Il tuo benessere e la tua bellezza, nella nuova sede di 250 metri quadri a Montale. Una boutique di farmacia dove troverai esperienza di importanti farmacisti e reparti specializzati di cosmesi, omeopatia, integratori sportivi. Ampio spazio gioco per i tuoi bimbi. Farmacia San Michele, il nuovo modo di fare farmacia. Ampio spazio gioco.